Il mio turno! Pesco! Ora gioco Cronomalia Tecnologia! Se tolgo dal gioco un mostro Cronomalia presente nel mio cimitero, ho la possibilità di pescare due carte dal deck e spedirne una al cimitero. Bene, adesso evoco Cronomalia Ossa di Cristallo! Ho potuto evocare questa carta direttamente dalla mano perché tu hai un mio mostro sul tuo terreno! E con la sua evocazione acquisisco il diritto di recuperare Cronomalia Tecnologia di Cristallo direttamente dal cimitero! Torna a me, Tecnologia di Cristallo! Ora sovrappongo Tecnologia di Cristallo e Ossa di Cristallo di livello 3! Con questi due mostri costruisco una rete di sovrapposizioni! Evocazione Xyz! Appari in tutta la tua magnificenza, Cronomalia Alieno di Cristallo! Quasi!